Jürgen Demester è un tifoso del Bayern Monaco. Ogni anno, da tre anni, il 6 aprile, lui è all'Aquila. Ha conosciuto amici, tifosi come lui, che condividono una passione sana per il calcio, che aiutano e che non stanno a guardare. Con la Germania, una donazione per lo skate park realizzato dagli Ultra Rosso Blu e Red Blue Eagles, grazie alle donazioni a Piazza Darmi. Lui qui ha trovato una città e degli amici. L'Aquila non si dimentica. È la terza volta di essere alla fiaccolata. Sì, 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 ho tanti amici qui perché dopo il terremoto abbiamo fatto anche in Germania una raccolta per aiutare il progetto del skate park e così ho trovato tanti amici in questa città e sono tornato ogni anno quando è possibile per questo fiaccolato e anche per vedere come la città si rinasce. Tu vieni dalla curva, sei un tifoso di calcio. Sono tifosi di calcio del Bayern Monaco e così è iniziato il contatto con i ragazzi all'Aquila. Il grande cuore degli Ultra, aiuti nascosti che non pubblicizzano mai ma che restano nel territorio per il territorio a memoria futura, come quello fatto da Matrice. Gesti concreti che ci aiutano a capire come il calcio possa essere ancora uno sport di aggregazione e di amicizia e in cui fortunatamente c'è ancora una parte bella e pulita.